Grazie. di articolare la nostra comunità, la nostra comunità che ci dipingono la messaggente e qui non potete trovare lo spunto della tenda, maggiore, quello che mi ha detto quindi questo è quello che mi ha detto e il sistema di crescita c'era la nostra, la maggior parte un invito, un invito a chi ha la sicurità, non è quindi la ricerca non ce la diamo, anziché chiudere i presidi di polizia che torna a chiudere non solo per nessun problema, solo per un po' di modi di cittadino le persone che hanno occupato, che hanno occupato, che hanno occupato, che hanno occupato, che hanno occupato 7 volte di polizia a volere, 7 cittadini a volere, 7 cittadini a volere, 7 uffici a distruttivo contatto 7 caselle, 7 mezze, sicuro a 15 anni, per il bambino, il 60% questo è il 60% i cari problemi, i cari amici, i cari bambini, dovrebbero poi ritornare con l'efficienza del bambino e anche la sicurezza del bambino e anche la sicurezza del bambino per il bambino per il bambino con l'amore di tutti e un abbraccio a tutti l'intrazione di questo è quello che diciamo che il più importante ciclo del bambino c'è la bambina la bambina per la quale faccio un apprezzamento da bambino con tutti i lavori di lui e ci ho dato 13.000 e ci ha regalato 60 calze questo è stato un po' di nulla della politica romana grazie a Vittorio e poi ci sono un'altra scopra ci sono un'altra scopra ci sono un'altra scopra gentilissima grazie a Vittorio aspetta poi adesso vi facciamo tutti i terzi miei istituzionali che è l'intelligente del commissario del Bambino del Bambino che è stato delegato da questo periodo per la parte istituzionale del Bambino per la parte istituzionale del Bambino cerco di Vittorio e vi ringrazio per il lavoro che fa oggi per il commissario grazie questa è la volta a tutti i saluti del testore del rimanico Vittorio che si scusa per il proprio precedente per il primo internazio il mio numero in questo momento è un vittorio per la parte istituzione di roma e di dada i quali molto spesso sono impegnati anche nei giorni che non ho preso un'unità per fare e si vedrà lavorare che sono un gruppo impegnati con i luoghi in questa festa soprattutto per vivere queste famiglie e queste persone che molto spesso sacrificano interesse nazionali e anche interesse del Bambino allora grazie per il primo impegno semplicemente un piccolo errore scusate io ricordo che mi piace che mi ha fatto fare il mio libro di donna di mio padre che aveva fatto qui e mi ha detto ciò non è che fare quando tornò da lui mi porto il primo ritardo e mi ha fatto questo come la vicinità grazie a tutti grazie a tutti